Ciappi è l'acronimo di Centro Internazionale Addestramento Professionale Industria del Nato a Chieti nel 1968, ma a causa dei bilanci in perdita rischia la definitiva chiusura. Appello alla regione del direttore Paolo Cacciagrano e dei lavoratori affinché si trovino soluzioni. Qual è la situazione debitoria del Ciappi? La situazione debitoria è circa 5 milioni di euro, ma in realtà non è così, perché sapete i bilanci sono anche delle partite di giro, ci sono 2 milioni e mezzo che è una partita di giro, che sono soldi che deve andare alla fondazione Ciappi, che è il contenitore tecnico di questo istituto, ma che a sua volta deve rifinanziare il Ciappi. Quindi stiamo sui 2 milioni, 2 milioni e mezzo, ma di questi 2 milioni e mezzo di euro, 1 milione e 200 mila euro è già stato deliberato dal Consiglio regionale precedente, con due disposizioni di legge ben precise, perché si riferiscono a debiti di stipendio dei dipendenti, alla fine c'è un debito di circa 2 milioni nei confronti dell'erario, ma qui come io ho scritto più volte la regione Abruzzo, se noi utilizziamo la cosiddetta legge della rottamazione c'è un ulteriore abbattimento di 1 milione e 1 milione e 200 mila euro tra sanzioni ed interessi, quindi alla fine il debito del Ciappi è facilmente sostenibile rispetto alle proposte che ho fatto io in modo reiterato, cioè quello di contrarre un mutuo, pagando con che cosa le rate di mutuo? Pagando con l'obbligo di legge, qui sottolineo l'obbligo di legge che ha la regione nel dare una quota sociale annuale al Ciappi di 600 mila euro, ci paghiamo gli interessi e la quota capitale del mutuo e quindi nel giro di un mese e un mese e mezzo i debiti sono abbattuti e il Ciappi ritorna ad essere funzionale come lo è sempre stato per 51 anni. Il Ciappi è stato ed è il braccio operativo della regione Abruzzo, basta pensare che la regione ha utilizzato questo end, perché è un end di proprietà della regione, per risolvere una serie di problemi incredibili, come ad esempio quando vennero chiusi i centri di formazione privati, la regione mandò 67 dipendenti a lavorare presso il Ciappi, ma soprattutto oggi perché la regione Abruzzo e la provincia di Chieti tiene qui il liceo artistico a costo zero, qui se noi dobbiamo fare utili il liceo artistico deve pagare almeno 10 mila euro di mensilità per l'affitto di tutte le strutture, sia tecniche, laboratori nostri che noi abbiamo dato incomodati in uso gratuito, allora dobbiamo fare utili, benissimo, allora adesso diciamo il liceo artistico, glielo dice la regione che ci vuole chiudere, è la provincia di Chieti che non caccia un euro, che devono pagare minimo 10 mila ma anche di più.